L'Aquila si prepara ad accogliere il Natale. Se i commercianti già si stanno adoperando per addobbare i loro negozi a festa, anche il Comune ha già stilato una sorta di calendario di eventi e iniziative. Casette di legno bianche per il corso ad ospitare i tipici mercatini, altri mercatini tra Piazza Duomo e la Villa, il villaggio di Natale per i bambini, cantate natalizie e presepi, il grande albero in Piazza Duomo, dove è già stata montata la pista di pattinaggio, che resterà sino al 12 gennaio, ma ci saranno anche delle sorprese che il Comune svelerà solo il 6 dicembre con l'accensione dell'albero. Anche i cortili dei palazzi storici saranno vestiti a festa, con mostri all'interno e come ogni anno le frazioni avranno il proprio albero di Natale, degli addobbi specifici, come ha detto il Vice Sindaco. Anche quest'anno in centro saranno montate le luci artistiche, dal 14 dicembre al 7 gennaio in cartellone c'è il presepe l'Aquila, ma alla Villa ci saranno anche dei mercatini a tema magia dal 20 al 22 dicembre. Quest'anno innanzitutto faremo una cosa inedita in Piazza Duomo e la nostra ambizione è quella di far diventare l'Aquila città del Natale e quindi ci sarà una cosa molto innovativa, vi aspettiamo il 6 dicembre per vederla. Avremo i mercatini Natale e come ha detto lei ci saranno tantissime associazioni che animeranno questa stagione natalizia. Quest'anno daremo anche un segnale alle frazioni, in particolar modo quelle della zona est, con degli addobbi personalizzati e cercheremo di far vivere il Natale il migliore dei modi a tutti i nostri concittadini e quante persone verranno nella nostra città. Mamme per l'Aquila, come ogni anno, organizza la magica casa di Babbo Natale, ma ci saranno eventi anche nelle frazioni, come si diceva, perché ad esempio l'associazione sulle tracce del mammut ha messo in campo per esempio in grotta accese. Il 6 gennaio torna la Befana dei Vigili del Fuoco e tanto altro, non mancheranno i presepi viventi storici come quello di Pianole e Camarda, anche a Paganica, sono previsti degli eventi. Abbiamo una grandissima tradizione del Natale all'Aquila, ma vogliamo anche andare oltre e quindi oltre a far vivere bene il Natale ai nostri concittadini con le loro tradizioni, vogliamo anche attrarre dei turisti che possano rilanciare il commercio nella nostra città e quindi nuove iniziative e nuovi spettacoli e momenti per vivere il Natale ed essere attrattivi.